Siamo alla giornata conclusiva di Eire e cerchiamo di fare un bilancio in parte di questa manifestazione ma soprattutto di guardare in prospettiva a che cosa ci aspetta nel mercato. Ho scelto tre partner d'eccezione per parlare di questo aspetto qua. Ve li presento, sono Sergio Iasi, amministratore delegato di Prelios, Antonio Intiglietta, presidente di GEFI e di Eire e Emanuele Canigia, amministratore delegato di Ideafimit, SGR. Allora partiamo con Antonio, un piccolo bilancio di Eire. Sicuramente quest'anno tra l'altro abbiamo avuto un incremento di presenze, di partecipazioni e anche i momenti di incontro, di riflessione sono stati molto interessanti. Rimane la domanda di fondo, cioè ci siamo posti all'inizio di questo evento una domanda. Sarà in grado l'industria del realistete italiano ad accettare la sfida della trasformazione del patrimonio? Sarà in grado la realtà degli enti locali di innovarsi in modo tale di essere rapida e flessibile sulle proposte e le provocazioni che arriveranno dal mercato? Sarà in grado il sistema finanziario italiano a sostenere e supportare il cambiamento? Dalla risposta a queste domande in qualche modo si definisce anche il destino del comparto a mio parere perché se ci saranno risposte affermative, reali, questo comparto può assumere un ruolo strategico per la ripresa economica del Paese. Se non ci saranno non è che il Paese si ferma, il Paese va avanti ma si svilupperà macchia di leopardo, non ci sarà un'identità riconoscibile dal sistema economico generale e dal sistema istituzionale. E che Antonio abbia lanciato parole che sono pietre, voi due che rappresentate due tra le maggiori aziende del realistete secondo me dovreste già cominciare a dare una risposta a quello che ha detto lui. Partiamo da Sergio. Allora, è vero, come al solito siamo in una situazione di ancora fortissima ambivalenza e difficoltà di leggere i segnali. Il mood è cambiato, lo vediamo dai colleghi che ci sono in giro, lo vediamo dal mondo degli operatori, dal rinnovato interesse, come stiamo ormai dicendo da mesi, degli operatori internazionali rispetto al mercato italiano. La vera verità è che poi siamo tutti quanti spaventati dalla ripresa della ripresa soprattutto perché manca ancora quel sistema di certezza a cui faceva riferimento Antonio che sono la base essenziale per poter ripartire. perché nessuno investe in un sistema economico che è ancora agli albori, diciamo, di una fase di una ripresa se non ha delle condizioni di contesto, normative, di sistema che agevolino e sostengano questi investimenti, sia su quello che va ristrutturato sia su quello che è già attualmente esistente. I segnali comunque in generale sono positivi, con i nostri colleghi di Previous l'altro giorno stavamo facendo un po' di brainstorming su quello che era successo in questi primi sei mesi dell'anno e sostanzialmente il mood è sicuramente molto positivo. Tutto il sistema dei servizi è ripartito, quindi quello è il primo segnale di una ritrovata attenzione verso il mondo del real estate, che poi questo si trasformi in nuovi investimenti, in nuove opportunità di fare, in nuovi contratti probabilmente ne passa ancora un pochino, però certamente rispetto a un anno o a due anni fa la situazione è decisamente cambiata. L'unica vera speranza, e leggevo stamattina in aereo venendo qui a Milano un po' di giornali, è che poi effettivamente il contesto normativo trovi una stabilizzazione, trovi una linea di tendenza precisa al nostro sostegno. Emanuele, come rispondi invece tu alla provocazione di Antonio? Tanto sono assolutamente d'accordo con Sergio sulla necessità delle certezze normative, perché è un punto fondamentale oltre per gli stranieri a cui tutti siamo attaccati, ma anche per noi operatori italiani, perché poi alla fine diventa difficile, se non si conoscono le regole del gioco, giocare a qualunque cosa. È vero che ci dobbiamo fare anche parte attiva nel cambiamento di queste regole, perché non possiamo sempre criticare il fatto che non c'è certezza e poi non, come dire, siamo sempre soggetti subendi delle regole che esistono, quindi dobbiamo farci parte attiva verso il governo, con le associazioni, direttamente, insomma cercare di trovare un sistema abbastanza coeso che consenta di intervenire sulle regole, cioè spiegare il perché sono sbagliate e non sono sbagliate perché noi vogliamo speculare su qualcosa, ma sono sbagliate perché strutturalmente sono sbagliate, cioè non riescono a fare industria. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, io devo dire in fiera, ho sentito parlare moltissimo di eticità, di trasparenza, di innovazione, ho sentito parlare poco di buonsenso. Alla fine quello che lega il nostro mercato alla realtà è il buonsenso. Noi dobbiamo cercare di fare delle operazioni che abbiano, mi ripeto, un senso di esistere, avere un'utilità sociale, economica e strutturale che le rendano talmente palesemente accettabili dalla comunità, dal territorio, dagli investitori che sono cose da fare e quindi portarsi appresso tutta la comunità finanziaria, politica e economica che ci consente di fare queste operazioni con tranquillità. Antonio, ha detto buonsenso, porte aperte. Allora, se vogliamo parlare di buonsenso cosa si può fare? Guarda, io faccio un esempio di cui Emanuele peraltro è testimone. Noi abbiamo portato un esempio in fiera. Io ho voluto farlo parlare alla giornata inaugurale. questo esempio è questa iniziativa, peraltro così antica da essere oggi la più moderna, di un signore che 40 anni fa, sul mandato del Vescovo di Padova, ha assistito alla necessità di due vedove di dare senso alla vita delle persone che rimangono sole. Da questa piccola cosa di 40 anni fa è nato, credo, uno dei progetti più innovativi a livello non italiano ma europeo, un villaggio in cui abitano 1800 anziani, dove esiste il museo del giocattolo gestito da loro per tutti i giovani, dove esiste un corso di formazione stradale fatto dagli anziani per i giovani, dove accanto c'è un villaggio di giovani coppie e quindi c'è un progetto di inclusione sociale in cui lavorano 1800 persone in una struttura che ha una redditività sull'attività no profit del 3-4% e una valorizzazione dell'attività profit che sostiene no profit a reddito di mercato. Ora, questo progetto che è un esempio nazionale e internazionale di come va concepito l'abitare oggi, si vuole replicare in tutta Italia. Benissimo. È un esempio in cui questo paese dimostra che a volte la realtà è più avanti del sistema. Allora, quel buonsenso di cui parla Emanuele va giocato con la capacità di cogliere gli spunti, le opportunità, le innovazioni, i tentativi e farli diventare metodo, sistema che deve stare in piedi. Sta in piedi A se intercetta i bisogni e risponde a dei bisogni. B se economicamente regge. E qui, apro l'altro versante, è chiaro che c'è una grande provocazione, a ragione Sergio, sulla classe politica italiana. Perché se non si ha visione diventa difficile muoversi. Ma dall'altra è vero quello che dice Emanuele, bisogna avere il coraggio di sfondare e di sfrondare le pastoie, le burocrazie, le contraddizioni, anche perché poi ci sono i soldi, sì. Ci sono gli investimenti della comunità europea su questi progetti, sì. Ci sono possibilità legislative e operative, sì. Ma bisogna trovare quella sana sinergia in cui si parte e si fa un salto in avanti. Quando io parlo di imprenditorialità parlo di quello, perché quel signore non è partito garantito, ma oggi è un modello. Allora, abbiamo parlato di buonsenso, abbiamo parlato di coraggio. Adesso io faccio il giornalista per cui entro un po' graffiando la piaga. Ma gli imprenditori di oggi, di questo settore qui, hanno coraggio o preferiscono fare quelli che mettono le bollette per incassare? È una provocazione, me ne rendo conto. Però se non lo fate voi, non è che lo possono fare i giornalisti o quelli che organizzano fiere. C'è questo coraggio nella classe imprenditoriale italiana? Sergio. Se ti devo dare una risposta politica ti dico sì, se ti devo dare una risposta in coscienza ti dico no. C'è un attenuante che è dovuto al fatto che noi veniamo fuori da 5 anni di crisi devastante. 5 anni di scori e tossine che tu hai accumulato sono difficili da metabolizzare. Prima di ripartire, è come un malato che ha avuto una malattia pesante e il giorno in cui lo dimettono lo mandi in pista a correre i 100 metri con Usain Bolt. Pian piano gli fai fare prima 10 metri, poi 20 metri, poi 30 metri, poi probabilmente inizia a correre i 100 metri. L'industria in generale e il settore imprenditoriale in Italia è nella stessa identica situazione. Le idee ci sono, però oggi posta succedendo quello che succede per esempio nei settori non performing. I debitori se vedono rosa tendono a chiudere più accordi con le banche di tipo stragiudiziale a pagare perché sanno di poter rischiare un po' nel futuro. Se vedono nero preferiscono abbandonare il credito e dire chiuso, adotto una strategia di stop loss e non vado avanti. Oggi l'imprenditoria è in questa situazione. Due, c'è da considerare un'altra cosa, che noi abbiamo avuto un processo di selezione darwiniana mostruoso. Io ricordo 7-8 anni fa quando c'erano le famose gare per l'aggiudicazione di portafogli pubblici, c'erano i periodi delle gare dove c'erano 40-50 offerte che venivano presentate. Poi i prezzi erano quelli che erano. Oggi se si dovessero ripetere situazioni di questo genere probabilmente se arriviamo a due o tre offerte per lo stesso oggetto stappiamo bottiglie di champagne. I segnali come dicevo ci sono. Io vedo per esempio il settore dell'SGR. Adesso sentendo Emanuele prima riflettevo. Il settore dell'SGR inizia a vedere un'aria più frizzante perché si stanno ricominciando a pensare nuovi prodotti, prodotti probabilmente di nicchia, più redditizi, ma inizi a vedere la voglia, la gioia di provare a sperimentare dei prodotti nuovi che non sono i soliti fondi a comparto in natura tradizionale che ormai sono diventati una commodity per questo mercato. Quindi quando inizi a vedere questi segnali vuol dire che qualcosa sta cambiando. Però oggettivamente oggi l'encefalogramma secondo me è, non piatto, ma insomma, quantissime. Allora, buonsenso, coraggio, idee. Partiamo dal buonsenso. Dal buonsenso si riesce a tirar fuori delle idee e mi riferisco a una SGR come idea Fimi, che è la più grande che c'è in Italia. Cioè, riusciamo a cambiare forse questo modello di business molto impostato per guardare un po' il territorio? Più che riusciamo dobbiamo. Come diceva Sergio, noi siamo immobili più o meno da 15 anni. Ma immobili, non perché trattiamo immobili, perché siamo completamente immobili. Continuiamo a fare le stesse cose, fondi a porto, fondi a sviluppo, che sono sempre quelli. Allora, non ci vuole il coraggio, è direttamente proporzionale alla visione che uno ha. Se riusciamo a capire che gli strumenti che abbiamo in mano per sviluppare il territorio, per sviluppare il business, per creare anche con la finanza lo sviluppo dell'occupazione, che poi è quello che sostiene tutto il resto, se abbiamo questa visione non ci vuole coraggio, ci vogliono progetti semplici, progetti semplici che abbiano degli strumenti nuovi e che sia un'altra progetti pilota. Cioè, se noi non sperimentiamo mai, non arriviamo mai. Allora, dobbiamo cominciare a fare progetti semplici, che siano realizzabili facilmente, che non richiedano il miliardo di euro, ma che siano delle cose che inneschino una catena di nuovi prodotti, di nuove realtà e quindi non è tanto il coraggio, è la voglia di fare, è la voglia di provare, è la voglia di sperimentare, sapendo che nella sperimentazione, su 50 cose che si fanno, ne riescono due. E' la vera capacità di testa economica, finanziaria e la volontà per fare prodotti realizzabili. Perché se noi facciamo un excursus negli ultimi cinque anni di Eire, io ho visto progetti che sono stati presentati anche tre volte in questa sede e che non sono mai stati realizzati. Ma perché erano talmente massodondici, talmente complicati, talmente faraginosi faraginosi nei loro contorni, che realizzarli era talmente difficile, non ci voleva coraggio, ci voleva spergiudicadezza. Allora la spergiudicadezza diciamo che l'abbiamo lasciata nel 2008, adesso forse se riusciamo a fare cose concrete, quindi portiamo un progetto che si realizza veramente, riusciamo anche a acquistare un po' più di credibilità. Antonio, io e te mi vedo nel senso che ci vediamo un po' come Diogene che girava con la lanterna, cerco l'uomo. Io e te non cerchiamo l'uomo, però stiamo cercando la comunità immobiliare. Tu pensi che questa lanterna riuscirà finalmente a individuare se c'è una comunità immobiliare intorno a noi? Per esserci una comunità immobiliare c'è bisogno di persone che facciano quel passo di cui parlava adesso Emanuele, cioè persone disposte a rischiare se stessi davanti al proprio lavoro, cercando di… quando si parla di un mondo imprenditoriale che si riconosce, innanzitutto ci devono essere delle soggettività, prendo la battuta di Sergio. Da 7 anni di crisi non è che esce fuori il mondo immobiliare, esce fuori l'Italia e l'Italia ha qualche milione di imprenditori che in questi 7 anni hanno tirato la carretta. Come tu sai io mi occupo di un altro settore in modo particolare che è molto importante per il nostro paese e per Europa, si chiama il settore artigianale, ma tutto il settore manifatturiero italiano ha tenuto, anzi sta crescendo. Perché? Perché ha persone che hanno una capacità di rischiare sulle proprie intuizioni e su quello di giocare. Non è che si occupano di tutto, si occupano del loro particolare, ma su quello vanno fino in fondo. Si misurano col mercato e si misurano con non il mercato nazionale solo, ma col mercato internazionale, perché su quello reggono. Allora, per esserci una comunità ci devono essere delle soggettività che non pensano a se stessi, pensano seriamente alla sfida che hanno davanti. Uno quando pensa seriamente alla sfida che ha davanti capisce che da solo non ce la fa, che ha bisogno degli altri, che ha bisogno di essere sostenuto, da soli non ce la si fa. Allora si inizia a mettersi insieme. La domanda che anche qui dobbiamo porci sul real estate, esiste una somma di individualità o un gruppo di persone che si trova insieme con delle domande? Questo fa la differenza tra la formalità di mettersi insieme o l'elemento sostanziale. Il mondo immobiliare è in grado di rappresentare un tentativo in corso che rischia o no? Allora diventerà interlocutore, se va col cappello in mano a chiedere un piacere, rimarrà ai margini della partita. Sergio, vorrei che tu commentassi dal tuo punto di vista queste affermazioni di Antonio. No, c'è ragione. Intervista così. Ma questi sono temi, tu lo sai, prima abbiamo fatto un po' di briefing, stavamo ragionando su un pochino di idee oggettivamente e lo stiamo vedendo più dal punto di vista filosofico e mi fa anche piacere. Mentre Antonio parlava mi veniva in testa, non so, io sono appassionato di documentari naturalistici e quando i pinguini imperatore al Polo Sud si raggruppano tutti schiena contro schiena per resistere all'inverno polare, si danno il turno ogni ora in modo tale che quelli che hanno preso freddo rientrano nel gruppo, si riscaldano e ci stanno quelli con le schiene fuori che beccano il blizzard polare. La mia sensazione è che in questo momento siamo in questa situazione, però non siamo social, non è che siamo solo noi tre. Inizia esserci comunque una comunità di persone professionali, di buonsenso, con delle idee che hanno rispetto reciproco, cosa che in parte nel mondo dell'immobiliare nel passato non c'era. Il mondo dell'immobiliare è un mondo a velocità di turnazione, di rotazione impressionante, per cui chi era più furbo faceva più soldi e mollava il cerino bollente a qualche di un altro. La cosa che mi piace, perché mi reputo parte di questa comunità è che inizi a poter parlare, avevamo prima di qualche idea con Emanuele, di cose fra persone che rispetti, che sai che hanno la stessa visione imprenditoriale di lungo termine, che non cercano di tirarti la fregatura e poi salutarti e dire hai visto come sono stato più furbo di te. Questo secondo me è proprio una precondizione della ripartenza del settore. Poi ripeto, continuo a stressare ormai da un anno, un anno e mezzo, ma non per scaricare le responsabilità sugli altri, il contesto normativo deve essere più stabile, deve essere più certo, più stabile. Dobbiamo ricominciare a riportare non soltanto i soldi degli investitori istituzionali, ma quelli del piccolo risparmio di mia mamma, di me stesso, di te, sull'immobiliare attraverso gli strumenti innovativi. Perché se poi pensiamo agli strumenti innovativi, ma troviamo il muro di Berlino da oltrepassare per farli partire, questi nuovi prodotti, abbiamo fatto un bellissimo esercizio di natura scientifico professionale, ma risultati zero. Emanuele, chiudiamo con te perché siamo fuori tempo massimo, però anche a te una domanda permettimi un po' difficile, perché è difficile la risposta. Voi siete dei manager, dovete rispondere a degli azionisti che evidentemente non vi chiedono di fare beneficenza, non vi chiedono di fare grandi cose, ma di portare a casa dei risultati in termini economici. Tu sei entrato adesso in idea FIMIT con delle idee, ce ne avevamo già parlati prima, innovative nel mondo dei fondi immobiliari, che potrebbero però anche comportare un certo rischio. Tu pensi che il tuo azionista te lo faccia fare o invece credi che questa sia solo una tua aspirazione che poi rientrerà nell'alveo di una gestione normale? Immagino un azionista, immagino, sono certo che l'azionista me lo faccia fare, ma perché ormai ha una mentalità industriale, come penso quasi tutti gli azionisti che oggi rappresentano società analoghe alla nostra. Abbiamo capito che la speculazione è finita, quindi un azionista che oggi entra per speculare nel nostro mondo ha sbagliato mondo. È chiaro che come dicevo prima, qualsiasi cosa innovativa o qualsiasi cambiamento porta dei rischi intrinsechi sul cambiamento stesso. Bisogna puntare, bisogna fare un asset allocation delle attività. È chiaro che se io vado tutto in attività di rischio, il 100% della mia asset allocation è sull'attività di rischio, nel senso che sono attività innovative che non so dove vanno e non me lo posso permettere. Devo fare un giusto mix fra le due cose, avendo già una buona base ho la possibilità di investire nel nuovo senza compromettere il vecchio. Sono tutti progetti che vanno a 3-5 anni come orizzonte temporale per il ritorno dell'investitore e per la capitalizzazione dell'azienda, ma del resto se ci vogliamo chiamare industria immobiliare, l'industria non si fa in un anno. L'industria ha un orizzonte temporale dei 5, 7, 10 anni, perché prima che metti in produzione, commercializzi e produci e quindi c'è il ritorno sull'utile, ci vogliono quei tempi. Allora, se ci vogliamo chiamare industria immobiliare ci dobbiamo comportare come industria, se no facciamo gli speculatori, continuiamo a fare gli speculatori, però io consiglio a tutti a quel punto di comprare un cover warrant a qualsiasi borsa e sperare di guadagnare. Grazie Emanuele. Ecco, si conclude qui il nostro breve incontro di oggi, che però mi pare molto denso di spunti e di provocazioni. Emanuele dice, vogliamo essere industria immobiliare? Ecco, mi pare che sia il messaggio giusto per chiudere questo incontro qua. È una domanda che io rivolgo a voi. Vogliamo essere industria immobiliare? Ne parleremo nei prossimi mesi. Grazie. Grazie.